Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi come avete visto siamo al Cross Park Ponzano, lo vedete qui alle mie spalle Oggi c'è un timido sole in mezzo alla nebbia, però molto meglio che a casa nostra Quindi very good, infatti non è nemmeno freddo, non ho messo nemmeno la maglia sopra Oggi come sentite c'è un po' di casino, però volevo tornare al Cross Park Ponzano Dopo tanti mesi perché ci sono venuto ad aprile come avete visto nei video Quindi voglio vedere anche a distanza di un po' di tempo se sono migliorato, come va, quanti giri riesco a fare eccetera eccetera Quindi direi di non perdersi in altre chiacchiere, let's go into the track Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti. 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 E quindi niente, adesso mi metto giù un secondino, svito la ruota, monto su l'altra che è quella da battaglia, però ormai questa l'ho sbeccata tutta, quindi amen. Per vedere come si cambia come si cambia come si cambia come si cambia la ruota andate sul mio profilo e vi lascio i profili qui a destra e a sinistra. Buono. Però non ci frega niente. Però non ci frega niente, la possiamo tritare al massimo. Let's go, let's go, let's go. Sì Vado a girare smooth Bello dolce Qualcuno dirà anche a troppo dolce Eh 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 Eh, l'accia Eh eh, l'onpa lunga Oh 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 Ah Ah Questa salita mi distrugge gli avambracci Perché vieni su lì, tiri, tiri, tiri Spingi con le gambe va Tiri, tiri, tiri Tiri, tiri Oh 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 Ci siamo Giornata conclusa Direi nel modo migliore Ho guardato anche un po' i tempi perché adesso con il discorso del crossbox c'è sempre c'è sempre i tempi a portata di mano, quindi molto bene ho girato un 56 a 3 molto molto bene se riguardiamo ai tempi di maggio c'è uno step molto in avanti perché giravo in 2.5 e 2.6 adesso invece facevo 56-57 quindi ci sono quasi 10 secondi di differenza quindi direi che è molto buono è vero anche che oggi è un po' più secca e si riesce un pochino a far più strada rispetto all'altra volta però diciamo che il passo c'è però ragazzi prima di chiudere il video mi raccomando tastino rosso iscriviti e la campanella per non perdervi i prossimi video perché saranno molto 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 interessanti un bel like e un commentino se vi va ciao ragazzi alla prossima